Nei prossimi giorni partirà una nuova messa in sicurezza della torre civica di Palazzo Margherita, una messa in sicurezza di base per evitare problemi all'incolumità delle persone. Come è noto l'opera è stata stracciata dal progetto iniziale perché nel 2016 ci sono stati problemi legati al terremoto e la torre si è inclinata. La determina è di ora ed è firmata dal RUP Mario Di Gregorio che ha dato al consorzio Margherita l'incarico di installare una rete metallica sulla torre per un corrispettivo pari a circa 66 mila euro. L'intervento era stato richiesto proprio dal direttore dei lavori, intervento che potrebbe essere anche necessario per riaprire almeno una parte del palazzo agli uffici comunali, nell'ala nella quale i lavori sono ormai terminati ma serverà una seconda messa in sicurezza, quella vera e propria. L'obiettivo del comune era riaprire Palazzo Margherita per dicembre, probabilmente questo avverrà alla fine di dicembre. La torre rappresenta uno dei nodi dei lavori con la campana che non è stata ancora oggetto di interventi e che anche se puntellata potrebbe creare problemi di stabilità all'intero edificio. Per ovviare a questi problemi l'aggiunta l'anno scorso aveva approvato una variante al progetto di 4 milioni di euro per stralciare i lavori alla torre e mandare avanti gli altri. In questa fase l'intervento che sarà eseguito è teso semplicemente alla garanzia della tutela della pubblica incolumità, quindi ad impedire che elementi lapidei piccoli, cioè che piccoli sassi o laderizzi possano staccarsi dalla torre in occasione soprattutto di eventi meteorici o gelo e di sgelo e quindi cadere sulla pubblica via. È finalizzata a questo, mentre un successivo intervento di messa in sicurezza vera e proprio sarà eseguito con separato procedimento. L'apertura del palazzo, ad eccezione della torre e delle aree limitrofe alla torre che saranno comunque area di cantiere per i lavori appunto del consolidamento della torre, saranno disponibili non appena eseguiti ultimati i lavori che sono in corso. Come tempistiche diciamo che più o meno ci siamo, fermo restando che resta da montare il secondo corpo scala e per il quale dovrebbero essere necessari circa 30 giorni di lavorazione dal momento in cui però saranno disponibili. Abbiamo qualche piccolo problema sulla consegna delle forniture. Al termine degli attesissimi lavori Palazzo Margherita tornerà ad ospitare i dipendenti comunali, sono circa 300 e gli uffici di rappresentanza del comune, oltre alla sala del consiglio comunale.